Gian Mario Gazzi, Presidente, Consiglio Nazionale, Ordine e Assistenti Sociali. Fare una manifestazione come il Festival del Servizio Sociale, in particolare a Catanzaro e in Calabria, dove la struttura dei servizi sociali è ancora purtroppo carente rispetto alle esigenze di un territorio martoriato, come sappiamo, è fondamentale. È fondamentale per garantire i diritti a tutte le persone e in particolare quest'anno, con il tema scelto per il Festival del Servizio Sociale, cerchiamo di garantire e di portare l'opinione pubblica a pensare su un tema che è quello di chi diritti non ne ha. Parlare di discriminazioni, di omofobia, di violenza sulle donne significa oggi dare spazio e voce in una logica di advocacy a tutte le persone che oggi voce non ne hanno. Chiunque dimentichi le persone, qualsiasi orientamento esse abbiano, compie un errore madornale sul futuro di una società aperta e inclusiva. Chiunque dimentichi le persone, qualsiasi orientali sul futuro di una società aperta e inclusiva.